Nell'ultimo periodo si è rivisto il miglior crescente? Sì, la condizione sta migliorando, so che posso migliorare e posso stare molto meglio di così, però sono felice, adesso è importante ripeterci perché abbiamo fatto una partita molto importante, dobbiamo continuare su questa strada, anche se è lunga, mancano ancora 12 partite importanti. Con l'arrivo di Gozzi, con il mercato di gennaio, le coppie dovrebbero essere Crescenzi-Cancellotti a destra, Gozzi-Milani a sinistra, per ora il posto è tuo a sinistra. Non me le dovete domandare a me, le dovete chiederle al mister, comunque siamo quattro buoni tersini, ci daremo battaglia in allenamento per poter giocare sicuramente, però siamo un gruppo affiatato e chiunque giocherà darà il massimo per questa maglia. Guardiamo Andria, la squadra è ultima in classifica, parlano i numeri e cominciano a diminuire le partite, significa che hanno l'obbligo dei tre punti e quindi potrebbero aprirsi un po'? Sicuramente l'Andria, essendo ultima, deve fare più punti possibili, ma è lo stesso noi, perché vogliamo, come ho detto già prima, ripeterci, siamo un gruppo importante, con delle qualità e sicuramente andremo lì per vincere.